Calcio di punizione a favore della Virtus Castelfrentano, in aria avversaria stiamo giocando. Parata del portiere, ostica, sempre 0-0, la gara è iniziata da poco. Questa è una gara di recupero, è il campionato provinciale categorie allievi, girone di Chieti. Stiamo giocando sul comunale di Santusagno del Sancro per indisponibilità del nostro campo. La gara è Virtus Castelfrentano, con la classica maglia bianco con i svolti giallorossi, sarebbe la seconda maglia. Mentre il San Fuceto Calcio sta giocando con la maglia giallo-nero. Le Vespe. Adesso, grande parata del nostro portiere d'Ottavio. Matteo, in calcio d'angolo, si riprende con un calcio d'angolo. Aspettiamo l'esito di questa azione. Niente, ecco. Uomo! Uomo! Attenzione, o Dio, recupera! Grazie